Pasta con melanzane e tonno cotta con magic cooker sporcando solo una pentola. Nel tegame metto l'olio e l'aglio tritato. Le melanzane tagliate a dadini copro e faccio cuocere a fiamma alta per pochi minuti. Quando sono ben rosolate ci aggiungo il tonno in scatola, due scatolette, qualche pomodorino, capperi, olive, origano, sale e un po' di polpa di pomodoro. Copro e faccio cuocere ancora a fiamma alta per qualche minuto. Poi aggiungo la pasta, io in questo caso sto usando pasta fresca e l'acqua, mezzo bicchiere d'acqua ogni 100 grammi di pasta fresca, un po' di sale, fiamma alta finché inizia il bollore, poi fiamma bassa per il tempo indicato sulla confezione della pasta. Verso fine cottura aggiungo un po' di prezzemolo tritato e regolo anche di sale e termino i minuti di cottura. Pronta! Super saporita, cotta molto velocemente, risparmiando tempo, acqua, gas e pentole da lavare. Comuni. Ciao!